Domani mattina alla Villa Comunale Torna Ho Fatto Un Sogno. Sì, domani mattina l'appuntamento è rinnovato, dato che la scorsa settimana le condizioni meteorologiche non hanno permesso il proseguo della manifestazione nelle ore pomeridiane, domani mattina faremo i laboratori che non si sono svolti la scorsa settimana. Quindi le condizioni meteo dovrebbero essere propizie, quindi ci dovrebbero aiutare nel proseguo della manifestazione, vi aspettiamo in tantissimi, numerosi come la scorsa volta. Mi raccomando ai ragazzi, ai bambini, venite, vi aspettiamo, questo sogno si sta realizzando e quindi siamo molto felici e contenti di proseguire nella realizzazione di questi laboratori. Spazio anche alla musica, ci saranno gli scarafoni, ma non solo. Ci saranno delle note musicali, quindi abbiamo un po' diciamo rivoluzionato la parte musicale in quanto, essendo ore pomeridiane, quasi anti-meridiane veramente, attorno all'ora di pranzo, quindi abbiamo adeguato un pochettino la manifestazione a quelle ore, quindi ci sarà sempre un po' di musica, oltre ai laboratori, quindi nel finale della mattinata. Sono stati anche i bambini stessi a richiedervi di replicare l'iniziativa? Eh sì, i bambini e anche le persone, anche gli adulti, nonostante la pioggia del pomeriggio venivano davanti il cancello tristi perché non potevano continuare a giocare. Allora a quel punto abbiamo detto no, non possiamo deluderli ed eccoci di nuovo domani mattina. Sicuramente è stato impegnativo perché è come organizzare nuovamente un altro evento, quindi oggi pomeriggio saremo di nuovo in Villa Comunale per pulirla, per spazzarla, e domani mattina monteremo nuovamente i laboratori e tutto diciamo quello che ci sta dietro all'evento. E devo dire grazie a tutti i referenti ai laboratori perché si sono stretti attorno a noi e hanno detto ok, si fa, diteci come, dove e quando. E quindi ci tengo a ricordare i laboratori singolarmente. Dalle 10 alle 11 giochi di un tempo a cura di Lillo Sutera, Lucunto, Comitato Pro Villa e alunni Terza F Scuola Mariano Rossi. Dalle 10 alle 12 animazione per bambini Fanny Days, 11 alle 12 lettura d'alta voce a cura di lettrici volontarie per bambini da 0 e 6 anni, 11 alle 12 caccia al tesoro a cura del Comitato Pro Villa. Ragazzi venite, ci saranno anche ricchi premi. E poi dalle 12 e 15 alle 13 le note musicali dei Dorè, Mele Marce e Scarafonia con un inedito appunto chiamato Ho fatto un sogno. Continuiamo e speriamo nelle donazioni, quindi donate, donate, donate per raggiungere i nostri due obiettivi piccoli ma che hanno bisogno di voi. Pompa in rigua, sostituzione perché è rotta e poi percorso sensoriale ideato da Lorenzo Navarra che verrà realizzato da un gruppo di vivaisti. Grazie. Grazie.